C'è speranza, soprattutto le nuove generazioni che rischiano di non trovare lavoro e che non vedono una speranza per il loro futuro, per poter fare una famiglia. Il grande risultato è quello che questi due personaggi insieme hanno ridato credibilità al paese e all'estero. Io penso che questa, non so se abbia ragione questa rivista americana che dice che Napolitano è stato uno dei più grandi leader a livello mondiale, sta di fatto che Napolitano è riuscito a far capire al presidente Premier che era il caso che si facesse un po' da parte per il bene del paese, è riuscito a mettere insieme, perché questo è un governo di emergenza, però nei fatti è riuscita a mettere insieme le più grandi forze politiche italiane, cosa che non è riuscita a fare Obama in America, non è riuscita a mettere insieme i repubblicani e democratici per il bene dell'America e per il bene del mondo e l'Italia è strategica nello scenario europeo, nello scenario internazionale. Se oggi lo spread scende sotto 400 punti, oramai anche un cittadino normale sa cos'è lo spread. E' già sceso sotto i 400 adesso. Se è sceso così, se riprende il tavolo dello scenario europeo ed internazionale non è più Sarkozy-Merkel, ma è Monti-Sarkozy-Merkel, tra l'altro Monti rischia di essere quello più stabile perché a primavera non è detto che Sarkozy e Merkel siano riconfermati, anzi tutti gli analisti dicono che sono a rischio. Adesso c'è bisogno della crescita, crescita, lavoro, occupazione, sviluppo. Senti, già comincio a farmi il segno sul braccio che il tempo va. Che cosa dici? Tu so che hai un dialogo su Facebook, no? Come fai a avere il tempo per fare tutte queste cose? Ma io penso, ho provato questa esperienza molto importante perché internet è un luogo straordinario dove non ci sono mediazioni, uno può dire quello che vuole e riceve di tutti e di più e durante la campagna elettorale per le regionali, naturalmente avendo pochissime risorse, tutto un prodotto artigianale, però insomma… So che è un dialogo piuttosto intenso. Sì, perché è anche quello più immediato, se uno ti manda un messaggio tu puoi rispondere, gli puoi mandare il numero di telefono, gli puoi dare gli appuntamenti… Poi così conosci cosa chiedono i giovani, gli altri… Ma certo, capisci anche che quello è un pubblico più attento, anche se non ci sono più soli giovani, ci sono… Senti, velocemente, i giovani, posso avere speranza di avere il lavoro? I giovani bisogna che sporcano le mani con la politica, con le istituzioni, che si impegnano e possono avere speranza se si impegnano direttamente, perché come sta succedendo una parte rilevante di un buon 40-50% di gente che si allontana dalla politica e le istituzioni, vuol dire che fanno gli altri, vuol dire che non si impegnano per te, tu ti devi impegnare direttamente. Io penso che questa è la fase dello sviluppo, della crescita e del rilancio degli investimenti e dell'occupazione e i giovani, l'assillo di ognuno di noi, chi ha figli, chi ha nipoti, chi ha… insomma, deve pensare che intanto i giovani sono il futuro e poi mentre per noi era un po' meno dura, per quanto era dura, perché vorrei ricordare, io non sono così grande da ricordarmi, però insomma le vicende della guerra, le vicende della ricostruzione, le vicende del terrorismo, ne abbiamo viste di tutti e di più in Italia. E poi tu conosci bene, tu sei nato come operaio, no? Ma io sono nato in un luogo di lavoro dove quando ci furono le vicende del terrorismo ero uno di quelli che era per la fermezza e ha vinto lo Stato e lo Stato vincerà anche questa volta, ma lo Stato sono i cittadini, sono le nuove generazioni, sono i giovani, i giovani sono e le donne sono portatori di grandi novità epocali, purché si impegnano, insomma. Adesso come amico che ti vuole bene da tanti anni ti lascio l'ultima perra piena di dolcezza, Ancona. Com'è questa situazione di questa città bellissima, ricca di culture, ricca di attività eccetera, che sembra che sia addormentata in questo momento? Ma io penso che ancora... So che tu hai un progetto, no? Ma io sto lavorando insieme alle strutture del Partito Comunale e Provinciale e agli altri partiti del centro-sinestra perché penso che sia un dovere di ognuno di noi di stare, di dare stabilità alla città capoluogo di regione, che va a scadenza nel 2014 e quindi far svolgere alla città capoluogo di regione quel ruolo importante sulle grandi questioni anche di carattere nazionale ed internazionale, il porto pensiamo, e tutta la vicenda che per fortuna grazie all'impegno di tutti... Adesso le anza con l'Adriatico... E si è conclusa positivamente, la intuizione del Presidente della Giunta regionale su questa macro regione d'Europa e i rapporti con... E c'è stato un ottimo lavoro di spacca... Ottimo lavoro che io ho apprezzato e che stiamo apprezzando, quindi è un obbligo per tutti noi che fanno politica, dare stabilità e aiutare il Sindaco eletto direttamente dai cittadini, oltre che rispettarlo naturalmente, il compito dei partiti è quello di... Persona molto gradevole, molto positiva dal punto di vista culturale, dal punto di vista dell'onore eccetera, no? E questo non è poco, non è poco, perché venne percepito per quello che è una persona normale, una persona per bene che naturalmente non è che deve essere strattonato dai partiti, deve essere aiutato, sostenuto in tutti i modi per gli interessi dei cittadini d'Alcona. Spieghami perché, in un momento così difficile, adesso parliamo di questo problema della città, i partiti non sentono il dovere di unirsi in un'azione comune, so che tu ti hai già da fare, ci riesci o no? Io penso che sia stato un dovere anche da parte mia impegnarmi su una città importante come questa. Naturalmente nessuno di noi può mettere le braga al mondo, bisogna che sia l'impegno di noi, ci siamo messi insieme, Partito Democratico, Socialisti, API, IDV e Udc per cercare di dar vita ad una nuova coalizione che è simile a quella regionale. Come sono le prospettive di queste azioni? Io continuo ad essere ottimista e fiducioso, penso che sia... La tua esperienza è già un impegno... Io penso che sia importante, non dipende solo dal Partito Democratico, noi siamo un partito in forte crescita anche nelle Marche, però siamo insieme agli altri e anche se avessimo la maggioranza assoluta saremmo insieme agli altri perché riteniamo che bisogna avere... Insieme agli altri, vedi delle prospettive di uscire bene da questa azione o no? Perché i cittadini sono in ansiosa attesa di queste cose. Io penso di sì e penso che anche gli altri partiti, anzi ho apprezzato soprattutto l'Udc che diciamo in qualche modo aveva fatto un percorso diverso, stare attorno ad un tavolo insieme all'indv, a rapi socialisti per cercare di affinare alcune linee programmatiche di fine legislatura, perché la scadenza naturale anche Ancona come in tutti gli altri comuni delle Marche 2014 e quindi lavorare insieme per il bene della città trascurando un po' gli interessi anche dei singoli partiti perché il bene della città di Ancona viene prima degli interessi di tutti i partiti che invece quando sarà il momento decideranno se stare insieme, su quale programma e quale modalità per riscegliersi i candidati, come facciamo per esempio a Iese e a Civitanova probabilmente si andrà quasi sicuramente oramai a elezioni primarie, sono 5-6 candidati nelle elezioni di coalizione del centro-sinistra e il candidato come è avvenuto negli Stati Uniti d'America tra la Clinton e il Presidente Obama, chi vince fa il candidato a Presidente o a Sindaco, chi perde sta nella squadra e collabora e aiuta chi viene eletto a fare il primo, la vita è fatta così, c'è posto per tutti. questo vecchio leone della politica ci ha dato negli ultimi minuti, ha fatto un trattato di quello che dovrebbe fare un buon politico, Palmiro grazie infinite, soprattutto per l'attività che fai da tanti tanti anni anche se tu vuoi sempre essere giovane, quanti anni sono che fai politica? Beh sono parecchi anni, una cinquantina? Beh un po' di meno, però ho iniziato da bambino è inutile dire, non è un caso che mio padre non ha messo questo nome che mi porto. A lui gli ha fatto fare politica da quando è nato, perché erano subito impegnato chiamandolo Palmiro. Però sono stato anche battezzato, anche se il prete c'aveva qualche dubbio. Grazie di nuovo, un grande abbraccio. Buonasera e arrivederci nella prossima settimana.